La partita per questa, 3.000 punti, si forma il truffone che affronterà i primi due passaggi, la partita per questa, 3.000 punti, si forma il truffone di più, si forma il truffone, Grazie a tutti. In totale, suona la campana, dal prossimo traguardo sarà il primo ad assegnare i punti, numero 65, prima munizione, numero 65, prima munizione. Numero 33, prima munizione. Si strana il gruppo con un'atleta IDK, Paderno e dovrebbe essere Giulia della SD. Siamo sulla traguardo, chi si giudica, anzi non è Giulia, 152, primi in due punti, Giulia Marelli, 55, un punto. Ancora Pondi, ancora Pondi. Tutti si ripondi, tutti si ripondi, quindi avremo per numero 3, numero 206. No traguardo, tutti si ripondi, tutti si ripondi, tutti si ripondi. Pondi, tutti si ripondi. Sempre l'altro, tutti si ripondi, tutti si ripondi. Siamo arrivati. davanti ricordo che questa è una semifinale, quindi si qualificano le prime 12, due punti per 1-3, 2-4-6 in un'unità, 3 punti per Elisa Dominioni e Arianna Cicchinè, 2 punti per Giulia Marelli, 1 punti per la corazione di questa messina. E' il truppone. E' la munizione che per l'accento di Stavio, Giulia Marelli, 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 Marelli e Arianna Cicchinè. E' la vincere della campagna dell'ultimo giro con Sorbetto Dominioni e Cicchinè a arrivare, 2 punti per il punto Cicchinè. Cicchinè a arrivare, 2 punti per la corazione di Stavio, Marelli, 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 Marelli. 3 punti per la corazione di Stavio, Marelli, 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 Marelli. Per Giulia Marelli. 3 punti per la corazione di Stavio, Marelli, 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 Marelli. 3 punti per la corazione di Stavio, Marelli, 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 Marelli. 3 punti per la corazione di Stavio, Marelli, 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 Marelli. tocca di Stavio, Marelli, 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 Marelli. 2,8-4, Ammonita, Ammonita. Svona la campana per numero 5 dal prossimo, che saranno assinati i punti in Paterno davanti a tutti a tirare nel gruppo. Gliussano Gliussano paderno davanti per i primi punti l'ultima curva 53 di 297 c'è una ruota di alzate, bisogna riuscire a spostarsi dalla curva, l'ultima curva, intanto Bellusco, Paterno per queste primo posizioni con Giussano che prova l'attacco all'esterno per aggiudicarsi ancora punti, punti, che vengono assegnati a questo passaggio, 23, 297, 23 punti, 297 punto. Abbiamo un atleto del Cardano in questo momento davanti a tutte, prova l'attacco all'esterno, viene rinunciato proprio dall'atleta Cardano-Skidin, abbiamo un red-black, in quarta posizione, vediamo chi sarà a tagliare il traguardo, scelto il terzo, per avere un'altra parte. 208, 284. Abbiamo 5 attività, 2 punti. Vai, 2 punti. Ancora 2 punti al prossimo passaggio. 2,36 per non aver trovato un piccolo vantaggio, la stessa prezza della red-black, a quarto, che andava a skating, a quinta, c'è la campana del tipo giro, ma vengono assegnati lo stesso, due punti, due 4,7, 2,6, 1. 2,4,7, 2,6, 1, ultimo giro, tre punti. Tre punti al prossimo passaggio. Fuori tutti. Allora. Un'altra... Ultima curva, qua이다 la carta del arrivo di Stanno Rapanese. Su Giussano. Rischetti in passaggio, che si mette in segna prodizione. il prelusto in terza un'altra lo sprint tra molti per la prima e la seconda è messo dal partito Mese che di Cassano è lo sprint finale anche per questi predizioni avrò entrato con Giussano che mette il prodotto in quanto è tutto